Trani cresce del 7% sul turismo, frutto di una programmazione. Sindaco, come avete operato? Sicuramente è un grande lavoro che parte da lontano. In questi sette anni abbiamo fatto tanto. Se vedo i numeri di sette anni fa e vedo i numeri di oggi, sono incredibili. Con questo non vogliamo assolutamente sederci, anzi il contrario. Intanto dire che c'è un grande lavoro fatto dalla Puglia, dalla regione Puglia, dal brand Puglia, rispetto al quale noi siamo riusciti a stare sulla crezza dell'onda e a difenderci bene. Superando un momento difficile come la crisi che ha avuto con la pandemia, che è una crisi mondiale mai avuta, che noi siamo riusciti a risolvere brillantemente. Se addirittura i numeri, vedo per Trani, aumentano anche rispetto al 2019, che già era stato un anno formidabile. Il lavoro c'è ancora da fare, è tanto. Lo sappiamo, ma siamo sulla strada giusta. Siamo contenti di aver sicuramente ormai preso la strada giusta. Queste presenze le vogliamo addirittura raddoppiare, se non triplicare. Quindi abbiamo appena iniziato un lavoro di rilancio. Grazie a tutti.